giovedì 25 aprile festa di san marco evangelista a san giorgio di pesero comune di terre roveresche si è svolta la venticinquesima edizione della fiera dei ricordi un appuntamento atteso dalla cittadinanza e da tanti turisti bancarelle di vario tipo laboratori per grandi bambini stand gastronomici artigiani e amanti del modellismo e dell'agricoltura hanno riempito le vie del paese dando vita ad una vera e propria giornata di festa allietata anche da eventi musicali a partire dai concerti degli sciampisti degli evergreen per concludere con l'atteso appuntamento con orietta berti al campo sportivo comunale la fiera dei ricordi non è solo un tempo privilegiato per fare acquisti ma anche un momento di relazione dove rincontrare nuovi e vecchi amici tutti accomunati dall'amore per questo nostro territorio